La chiamano settima arte, ma quando la conoscerai capirai che è la prima. Perché è l'arte di vivere, l'arte di credere così tanto e in modo così sconfinato a un sogno, da catturarlo e renderlo vero, non una, ma 24 volte al secondo. L'arte di non avere paura a essere visionari, lasciarsi andare all'immaginazione, farsi portare a largo di miraggi tra i quali nessuno si è mai spinto prima. Lì dove nulla è certo, è per questo, è ancora più possibile. La magia di rendere meravigliose le cose ordinarie, la bellezza di spingerti dove non ci sono confini e orizzonti. Perché questo è il cinema. Inspiegabile piacere dell'illusione Non smettere mai di sognare. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti